Ciao a tutti amici e amiche della fabbrica. Allora io e Domiziana oggi abbiamo deciso di occuparci della nostra pelle perché in attesa di poter uscire fuori di casa, perché non trattarci bene, perché non occuparci della nostra pelle, quindi abbiamo deciso di preparare delle maschere con ingredienti naturali. Ma per preparare la pelle a una maschera cosa bisogna fare Domiziana? Bisogna prima pulire la nostra pelle. Prendiamo un dischetto di cotone, ci mettiamo il latte detergente, questo qua va bene sia per me che per mamma. Quindi sia per pelli giovani che per pelli un po' meno giovani. La vecchiaia. E ci puliamo, dopo averlo lavato, in viso. Perfetto. Direi che la nostra pelle è bella e pronta. Adesso iniziamo dalla maschera di Domiziana. Domiziana vuoi dire tu cosa hai usato, quali ingredienti? Io per la mia maschera che è contro i punti neri ho usato un cucchiaio di miele e un cucchiaino di limone. Invece mamma Mary. Invece mamma Mary per la maschera per rigenerante ha utilizzato due cucchiaini di miele e un no perdonatemi un cucchiaino di miele e due cucchiaini di caffè macinato. E adesso pensiamo a metterci questa meravigliosa maschera sul viso. A me sarà veramente interessante metterla. Il caffè macinato funge anche da scrub per togliere la pelle morta. Sembra che io mi stia preparando per andare a guerreggiare. La guerra contro il coronavirus. Ok. Perfetto. Insomma perfetto è una parola grossa però mi sto. Eccoci qua. interessante. Qua una quantità industriale di punti neri e mondiale. Ok. Stupo. Ecco. Adesso lasciamo in posa dieci minuti. Cinque minuti. A dopo. A dopo. Ok ragazzi. Adesso noi ci siamo sciacquati il viso con l'acqua. Una spugnetta. Perché farlo in diretta sarebbe stato un po' complicato. Vero Domi? Sì. E adesso come procediamo Domi? Adesso prendiamo il tonico. che aiuta a ripulire ancora meglio la pelle. E togliamo le tracce di maschera che sono rimaste sul viso. Ok. E infreschiamo quindi anche la pelle. La idratiamo un po'. Ecco qua. insistendo nella zona T ragazzi. Nella zona T. Coesta qui. Perfetto. Bene. Adesso il nostro viso è pronto ad accogliere una crema idratante. E la nostra pelle è bella, radiosa e pronta per essere baciata.